A questo qua sembra che comincia a mischiare le lettere e non la finisce più. Prima pare che gli piace di fare sempre la guerra. E dopo pare che sta sempre agitato come un'umara forza 9, forza 10, così. Oh, parca! E lui è affazionato a tutte le superuomane che però sono un po', diciamo, ecco, che si mantengono in forma. Oh, dici che si è associato con persone molto, diciamo, che intraprendendo. Oh, però, pare che tutto il carattere viene pure tranquillo e calmo come un huiatt. Un huiatt, quello che fa miau, miau. Tiene tutte le sue idee tante belle che le va spiegando anche pure, diciamo, come se fossero un sacramento. un po' di ricorda. Non so che capisci che significa questa cosa che se tu combini la delinquenza, quella per una crema, ma intanto c'è un sacco per questo. Un vino che è, se ci vuole, io sopra la barchetta, diciamo, pure ma piana, perché pare uno che, come se fosse che tiene la tubercolosa. Ecc! C'è un sacco per questo. Ecc! 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 Lo sconosci! Ecc! C'è un sacco! C'è me!